ok ho fatto partire il diretto tiriamo un on air come sempre andiamo a non dividere su twitter su google su google google wait guys ragazzi aspettate per favore chicos un secondo prova l'audio non l'ho fatta la notifica non è arrivata ok allora vediamo 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 una piccola prova audio per confermare che tutto va bene per i piri 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 le modalità di giochi sono state aggiornate ventilatore in faccia rumore sicuro quindi ragazzi un po' di rumore dal ventilatore così che passano il cicos perdonai è ruido ma il ventilatore sta molto cerca di me perché se no me muero me muero punto es dai che ce la puoi fare dai che ce la puoi fare ragazzi ricordate di smasch il like button ora ok right now e qui siamo allora un saluto va percuggi cava dica duca allo ale gabri carico la solsito mio sarete è una grima inchinatevi manuela ora lo si o qualcuno è entrato benvenuti benvenuti ragazzi benvenuti ragazzi welcome guys chicos benvenuti goc doc di aaaah aaaah smash the like button please poi condividiamo con la gente del posto condivido con tutti non interessa chi sia sia ora prego ci sei quelli abbastanza io ti sento bene ho spot il ragazzo ho spot un secondo che sto condividendo con più gente possibile diretto in maniera che youtube vede che io condivido diretto se no questa merda non ci aiuterà mai 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 via col mondo con il mondo intero allora io sono fiducioso vediamo cosa succede ho tenuto troppo il ventilatore attaccato alla gola in questi giorni alessandro p ciao alessandro benvenuto abbiamo spammato nananana 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 la vera decisione non 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 A te che sei, semplicemente sei, parte dei giorni miei, parte dei giorni miei, ho visto con Frank al mare che faceva live dallo spot del padre... ho visto cose che voi non potreste neanche immaginare, dai, dai... mamma mia ragazzi, con il ventilatore puntato in faccia, sì, Sista di Dio A schiaffi in bocca Gianni è stato lui a bocciagli Tarots, Tarots Wow Hey! Ciao a tutti ragazzi Scusate ma stavo leggendo lo chat Come ben potete immaginare Sono da solo Già arriva tra pochi minuti Dieci minuti credo sarà qui E sto solo Già sei in dieci minuti Ma sono meno quince E sarà oltre a vese in casa E se il chat ora è un pochino assì Tranquillo Potete parlare con voi Che tenete amico Per chi può parlare Non tenete Come va la situazione like Solo 13 like Manuel Buona gente bonita Allo freddo lo saluto maniana Quindi qui va a salutar tutti Oggi Gigi Danny 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 Madness Oh my madness Oh my madness How are you today man Come va la situazione like Oh my madness Come va la situazione like Oh my madness tutto bene e spero che si,claro ripcciato vocale a me si sente no ragazzi non mi fate venire la tachicardia tachicardia robot dog che cosa succede? la prima partita sempre la facciamo in pubblica e poi in privato intenta che sicuro ora alguien se va o esperas un par di minuti o sei minuti in maniera che quando stiamo sempre in privata oh my god gugi a bello vincenzo come stai vecchio? a vecchio ragazzi lui e l'altro gugi vi ricordate che mi ho detto che erano troppo belli per farne uno solo e ne hanno fatti due uguali ecco lui e l'altro chicos vincenzo e se lo trovi primo è il cremello di angelo bene bene oh my god oh my god oh my god allora qua è tutto nostro qua è tutto nostro accessoretta vero no? ehyshu hhahhh hhihi ahheh Oh mio Dio Questo sarà il mio secondo account Non so chi sei Ciao Lattino Bella Lattino Aspetta 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 Saremo insieme vieni Vabbè Sali dai Destructor Leonardo Magico Ma chi è il cava Il cava magico Viva Leo E che lo li dai indietro Allora Doc se non era per te Che mi mandavi il link Io non venivo perché la notifica non mi è arrivata E lo sapevo Per quello ho mandato link a tutti a destra e a sinistra Bene brutti È un ritmo tropical Taglia di tacco Taglia di punta Il marcio Vediamo dove viene il marcolino Marcolino Hola Jaime Bienvenido Que tal va? Na 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 Gabri Carri Sara Wow Ah Entone se lo siio Sta fuera E se lo siio sta fuera Lo siio la proxima Vamos a reiniciarla Yo Shonda How are you? Today I'm playing in Splatoon 2 Woooo Are you ready To play with us? Shara patira Prima papira Prima papapà Mio Dio Tutti qui? Tutti qui? No Na 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 Pingu Se spera Stiamo a decidere Llego Perché ora Non lo so Tiene che mirare Cliccare Dalle Al pulsare Al bottone Mirare Lo che accetta Non lo so Tambien Geschi Rieserlo Però Non lo so Domani Drove Vivo Andiamo a casa Si no si La siguiente Vamos in privada No te preocupes Ma Però devi mettere in ruolo Frank Questa è la patina Come siamo peggio cosa ho scritto ho sbagliato qualcosa raga vuoi dirmi che ho fatto un fail Che cazzo parlo bene in inglese ragazzi Non ho scritto niente ho scritto nintendo switch sulla toon 2 live Minimalista mini animale minimalista una lista minima No tans No 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 Notorious Allora 88 22 Venite belli Ok allora a me faccio una matriciana una boh madonna No guarda io spero veramente decore Che stasera Jess sta meglio così me lo mangiamo i ravioli finalmente Ferchino Che tal Ferchino Oye Gabri se chiedi aiutarmi un pochino a stagano lì a Jess E' vent'è nel chat dei boss qui Perchino Piccolasoni Piccolasoni Mi ligno il sito c'è tanto eco ragazzi oh my god oh my god oh la potato sorry guys the fan cooler it's really near to me because in my home it's like a hell so the eco it's clear that you speak English, Spanish, Italian, etc. c'è tanto eco, I'm telling you, we can see what happens. Gabri, Gabri, lower the volume of Splatoon because I don't want to cook a... now we need two people more more sorry no no people so we start Rocio are you ready? ecco l'angeletto il mio secondo cugino preferito oh or do you play as one? no 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 how do you play as one? how are you beautiful? io qui a fare il mio la mia mini live stream di pomeriggio pomeridiana ok yeah potato don't worry we finish really really fast I think thanks no 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 mini 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 prenode ha abbiamo bisogno di visualizzazioni oggi Kugi Ari Hicks hey hey how are you Ari 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 oh si latti dobbiamo mangiare dobbiamo mangiare perché sennò oggi arriverà sicuro con fame perciò dobbiamo mangiare tranquilli prima della live di pork night pork night pork night grande come apprende facile pork night pork night no ciccio tappi Ari ciao ciccio gamer come stai yeah and the match finish right now Ari che idioma si parla what language you speak you're speaking parla italiano Ari 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 oh bella ciao Alessandri Rocky X welcome 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 Ari 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 oh the card the card ah no uh Rocky X I I have to accept your friend request in the next because if if I check right now they crash the lobby but don't worry I will accept you when the match finish duca non posso ah sei italiano perfetto allora guarda ti dico posso accettarti dopo perché sennò mi crescia mi cresce la lobby scusa mi e benvenuto che La mia storia è la mia storia Credo che non c'è un gioco che il mapa E io ho avuto un settore Per questo Ah, questa è la mia storia Si, questa è l'ultima storia che entrò in Splatoon 1 E a me piace molto A me piace molto Splatoon 1 Il gioco in si piace molto Splatoon 1 Siamo tutti amici Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Guys, remember to hit the smash button Smash Please Eh ma devi dire To smanор Perché Hitmen Senn Judah Tanto questa la andiamo a chiudere veloce cazzo veramente sarà attenzione l'evoluzione delle frasi io non ho hai guardato i ultimi due, qualcuno ha guardato? no, tanto il secondo il secondo il secondo, il secondo, dobbiamo fare l'altra volta Ethan? Ethan? are you here, Ethan? grazie Vic, Ethan hello yeah welcome Ethan so guys new room wow, oh mio dio oh mio dio stanno aggiornando Minecraft stanno aggiornando Minecraft oh mio dio grazie grazie e stanno attorizzando Minecraft guys Minecraft update maybe my console work properly so I can play again in Minecraft no no just a bug fix I hope it's my bug seconda volta che schiaccio lo stesso pulsante sono un emerito coglione 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 so new lobby guys please remember to smash the like button please allora il nuovo codigo sera este 1 0 2 9 1 0 2 9 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 20 18 19 Dovremmo parlare? Eh ma io non ho parlato in francese, posso parlare un po', ma non... non lo so. Sì, poco, poco. Torino è molto cerca della Francia e il dialetto che si parla in Torino è molto parecido a quello che è il francese. Vick, guarda, Vick, non ho parlato l'Auto Expansion, l'ho comprata il primo minuto che l'avevano a vendere. Hace mesi, mesi, mesi passati, ma non ho mai spiegato. Perché se vai a spiegare l'Auto Expansion, che facciano i miei compagni? Mi hanno spiegato una cosa che hanno spiegato, non lo credo. E credo che, credo che tu due fuiste il primo del mondo a comprare l'Auto Expansion. Il secondo, il secondo al mondo che comprei l'Auto Expansion. Wow. Sì, e nel minuto in cui hanno detto che abbia l'Auto Expansion io ho andato nel... Nel E3, nel Direct della Nintendo, io ho andato nel eShop e lo comprei subito. E ancora ho dovuto spiegare. E sarei... E sarei... Il primo al mondo a comprare l'Auto e l'ultimo al mondo a spiegare. Perfetto! Exactamente, così come si fa. No, Vic, non ho apprendito a parlare il catalano. Ho apprendito a parlare il castigliano prima e l'inglese in seconda. E quindi... Aún non ho avuto tempo. Ah, credo che sto sbattendo in due. Oh mio Dio, ragazzi dovete... Il pass... Il pass è stato 1029. 1029, esatto. Doc, mi caghi. Sai che cosa? Stavo guardando la partita, Ciccio. A set? Sara, perché le video vuoi mi aiutare? Allora... Doc, vado a rivedermi il direct dopo. Eh, Ciccio, non ti perdi niente, lo sai. Però... Buon... Buon diretto e... Ci vediamo alla meglio... O più tardi o nella live di stasera. Un abbraccio, Ciccio. E lasciate il like, non mi fanno andare a controllare, eh. Ciccio. Non mi fate incazzare, per favore. Lasciate sta merda di like, per favore, che non vi costa nulla. Ciccio. Sperè perè perè... Perè perèè... E' vero, te lo guardo in maniera sana. Che vado a muoze! Cosa mi ha fatto mettere Frank Mod? Eh... Ci sono cose come... L'intesa tra me e Ratti o l'intesa tra me e Frank, che non... non sono per esempio le donazioni ma ci sono sempre state anche dall'inizio quando non esistevano le donazioni per esempio come ho sempre detto la parte buona di Frank è la mia parte buona e la parte di Ratti è la mia parte tra virgolette ribelle io con Frank il secondo giorno gli ho fatto questo discorso quindi lui sa la verità e ripeto ci sono male lingue che dicono ah hai fatto Frank moderatore perché dona no perché Ratti ha donato molto di più eppure non è moderatore hai capito è un'intesa che c'è sempre stata e sempre ci sarà nell'epoca in cui il doc non sbannava nessuno Ratti è stato quello che è stato sbannato e comunque è stato accettato meglio di prima perché è stato una delle poche persone che dopo un ban ha imparato a comportarsi veramente bene sì Pottato see you later sì hanno annunciato Simon di Castelvania cioè i ragazzi di Castelvania però non hanno annunciato la modalità storia non hanno annunciato tante cose che dovevano essere realmente Jess sento la porta grande Ratti hola a todos chicos ciao Ratti che è il primo che mi ha salutato hola Gabri mi allegro di oirte però questo significa che io ho tardi per despedirmi del Frank vero? Frank sei dove sta maniera non mi ha ripeto e me però mi hanno parlato un pochino non le coche viene il wifi sta essendo l'hotspot con il padre però nada Pottato se vuoi giocare puoi giocare eh man we have sento you the code hola cari ciao Fanta ciao a tutti e hola a todos quali sono le persone del clan che mi fido di più ragazzi ma purtroppo io l'ho detto la community vera e propria si è formata tra i primi mille e quelli che sono tra i primi mille sono stati quelli che veramente mi sono stati più vicino gli altri diciamo che dovranno fare un percorso un po' differente per essere tra virgolette alla pari di chi c'è già perciò non esiste di chi mi fido di più mi fido di moltissimi tranne che di te educa logicamente ah ma c'è Frank qua anche ciao Frank come va? io bene tu? scusa se si interrompo così ciao Sara hola Fergie doc provarai la minecraft fuori dal directo lo si sta provando quasi tutta la settimana no 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 sto facendo un'attualizzazione da poco ah si? ah amigo sto provando il minecraft avesse la robia sono felice per te Frank per chi no si per certo lo vai a provare se vuoi mi la ok ok datemi 5 minuti 4 sono con tutti i vuoi cosa vuoi tutti i vuoi allora si 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 ok quanto cosa ho rotti tu fai di tutto per farmi bannare dicendo che io non mi sono fatto vedere è il cubamatic è il culo matic la vamo saldiamo ora ora vamo a aver rosio e io si i duca però tantissimi non ce l'hanno più il vecchio minecraft spameador di burbucas chiaro parecchè una spameadora di burbucas di verità no frank lasciali fare così almeno mi fanno fare più commenti nella chat lasciali fare lasciali litigare così almeno cosa succede mi cagli l'acqua ah bene con questo calore tio ha tenuto suerte nella vecchia fattoria grande remonta parecchè una remonta no lo sigo che ha passato claro claro per chi no mira che quando hacía il minecraft hacía 2000 visualizzazioni per video eh abbiamo sido molto molto buono in minecraft tutti non io solo quindi è chiaro che vamos a seguir con con il minecraft quindi non già sai sai mister po 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 supo supo hanno partecipato al tutti gli altri chissà allora 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 ciao jessi ti sta salutando a cavatappi ciao cavatappi 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 new room new lobby hitan every two matches we change the lobby so the new lobby have the code 4 3 9 0 4 3 9 0 bravissimo 9 0 muy bien oh mamma ma l'acqua potevi lasciarlo fuori sai che c'è un sete bravissimo bravo hitan where are you hitan sicuro sicuro come che te tenia preoccupata però si stava trabajando hija mi hija è che stava stava però che dici madri mia quanta gente no ho 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 bien ho ho no ho un grado meno questo è scivoloso è scivoloso è scivoloso per me lo seccare oh mio dio dove fatemi seccare il controllo se non io lo faccio ok come eh oh mio dio che come non ci credo sai cosa significa no si si aprendi molto rapido eh a base a base di ripetire lo che diciamo aprendi c'è molto io me lo mi non io sempre ho aprenduto e che io sempre gli ho dicino per modernamente Io sempre dico, per poter parlare un idioma correctamente, hai che imitar a queste persone e senti come se fossero parte di questo idioma, sai? Casi come ridiculizzando, ma ovviamente senza ridiculizzare. E anche, è vero, però io sono una persona che si le queda di una. Non ho capito ora. Che sia una persona che il idioma si le queda di una volta. Certo, hai questa abilità. Io anche. Si. Io che puoi prendere tutto il mio idioma. Credo che. Prima di andare per l'europeo e poi andare all'inizio. Che ambicioso. Ho perduto la pratica, ragazzi. Mi sento noob total. Che mi è stato? Che mi è stato? Un total. Mi sento noob. Se è via il po del juego. Mi gustano i tanti. Mi gustano i tanti. Mi gustano i tanti. Mi gustano, mi gustano, mi gustano. Mi gustano, mi gustano. Mi gustano, ho fatto una qui in tutto il partito. Que bene. Wow. In la prima partita che ho fatto oggi, non ho incontrato Sara in un momento. C'è una guerra tra Sara e Gabri. Perché? Gabri ha iniziato a tenere una mania a Sara, diciamo. Si. No, hai questa, questa. Justo andando dove rimane la roba. Wow. Jaime, che scondidillo ahi. Con tu afro. Uy. No, 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 Sara. Lo portiamo. Il tutec si divieta tranquillamente Alla, Cari Cari con gafas de sol Pa' che non le den le rayos Come si chiamano? V-A 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 Solo V-A In i occhi, si proteggo Madre mia, otra vez Non ho vieno nessuna partida oggi Osea, oggi sto Ai, ai, ai Si, si, si Ok, continuamos, no? Doc, tu que dices? Si, vale Bueno, hemos hecho bazookar Yo quiero un splat zone Solo somos estos? Pretendo que si Ai, ai, ai Combinavamo Tanti guai Ah, che Ya me cabré Así que voy con mi arma Buena Ai, Fanta Ciao 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 Fanta Se ne va? Si 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 Buggando No Così Si 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 Tanti guai No, non mi vado, ho chiesto di salutarmi a Gabriele, ah ok, non l'avevo capito, non lo stavo leggendo. Molto dolce, eh? Molto dolce, eh? Io penso a farlo di nuovo. Fantino, Fanta, che splatta Jessi! Povera Jessina! Pi, 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 pi! Pappooo! Pappoooera! Ciao! Pappoooera! Pappoooera! No! Que fai? Io ti ho geto per se la practica. Pappoooera! Venganza directa, por las muertes de ració, de parte de Jaime. Oh mio Dio, oh mio Dio, io ci riprovo, schibidi papapida, solo 36 like, veramente, smash the like battle, PLEASE! Madre mia, però è una partida super perdida, chicos Ok,aspita la figura, schibidi papapia Al riprovo, schui puro! Attravisto muuro shall be scared Oh mio Dio Eskiledi papapira Agrega i Macbook Non,フィidono, Nonọ nonnonononono Nonanondononon on se più Nonananononononono Nonanononononononono Ah sì, lo sc phenomenor Oh mio frio, oh mio frio Mocro si, partida perdissima Nono stage vediamo con voi Sì, però non so, stavamo a 25 a 100 e di repente, non so come, bastava di dirlo che... No, 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 che scondito stava, Rocio, che scondita... Non so, io... Ah, che sono viva! Oh mio Dio, come è possibile? Ma si mi ha scatato, mi sembrava... No... Basta, basta! È davanti a me, eh? Rain in Cloth, ciao bello! Ciao! Ciao bello! Locked! Alla faccelo Carmen! Come stai? Bestiaccia! Tutto bene? Quattro! Tre! Qual è la gente? Quattro! 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 Dai, dai, dai! Ci sono due zone, Spat, qua! Come? Dove l'altra? Dove l'altra? Grandissimo! Ah, Gabri, grande! Ah, che male! O io dove stavo trasplato? E quindi tutto bene? Tutto bene, Locked, immagino! Cacca! Brava! Così si fa! Che fail, dai! Lanciare la bomba! Avete perso l'ultima, sai? No, ma è una partita intensiva! No, no! No, no! No, abbiamo vinto, che dici? Abbiamo vinto! No, no! Vai, 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 vai! Yeah! Che partida maltenza! Buon, 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 ragazzi! Wow! Capoeira! Buon, buon, buon! Buon, buon, buon! G, G, G! Buon, buon! Buon, 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 buon! Buon, buon, buon! Buon, buon, buon! Minchia! Oh, ragazzi, ricordatevi di lasciare il vostro like, per favore! Per i nuovi arrivati! smash il codice 9340 9340 tu giochi? io io no perché? mi piace aia mi ha lanciato l'acqua papo è amore papo era un papà papo papà papà chi manca? chiaro latti già questo è mio ah già sta? no mi piace non voglio volevo proprio quello sennò mi vuoto amore papo era papà per chi no? poi te la vuoi scucciare questa canzone è sedictiva cerchiamo amore calma l'ho trovato la mia switch è per bellezza oramai chiaramente confermato è tutto swag dirà sicuramente Jay si è collegata l'ultima volta un mese fa dicami bingù siamo arrivati a meno di 50.000 like dogma appa estum vive qualche tuo parente no si ho già detto ratti potrei venderla come switch di youtubera forse si vende più cara solo con un gioco ciao legend colione la switch jazz è araba forse stasera amore capoeira ho fatto bene ho fatto mi piace smash lo sai che si stanno vantando ok adesso qua parlo un secondo in italiano ragazzi scusatemi chicos disculpate un secondo che chiedo di fare un discorso e poi lo facciamo a fare tutto e in spagnolo anche allora il direct di oggi di smash no? smash qui lì 100 100 livelli giocabili personaggi qui lì già hai schiacciato un tasto ma non levi per favore back no? la gente è tutta euforica logicamente no? però 100 livelli giocabili ok 60 sono quelli che c'erano nel smash no hai capito? i personaggi sono tanti personaggi nuovi ma io ho visto quelli di castlevania e capito quelli di smash e quelli di splatoon non so che gioco giochi ah scusi mi sono sbagliata non lo so mi sono lì infatti è boh e comunque è una mezza diciamo presa in giro perché diventano come si fosse un smash 100 livelli nuovi invece sono 49 49 bravissima ok tolto quello no non voglio più comprarlo grande ratti allora dico no no? oh mio dio boh potrei usare la tua switch come un p3 perché ci sono più di 800 brani della nintendo si ok ma scusa un secondo la mia domanda è questa ma nello smash per wii u non potevi far lo stesso che c'erano tutti dov'è il bazookarp? io mai lo so in realtà se sono sincera vedo sempre le frecce lì ma non capisco dove no non l'avevo visto potevi accedere al con la wii u e potevi fare la stessa cosa più o meno si anche su 3ds ok non hanno annunciato la cosa che tutti ci aspettavamo la storia c'è una modalità che è cancellata che è censurata speriamo che quella almeno sia che era la storia giusta ok però dubito che abbiano fatto qualcosa di innovativo adesso la mia domanda hanno detto qualcosa sugli amiibo amibo? bravissima allora sugli amiibo se ci sono 109 personaggi ci saranno 109 amiibo in più hai capito? sono furbi come veramente la pasqua in israele hai capito? uguale sono sono diventati solo merchandising niente più che desilusione ragazzi si ma che c'è la storia c'è sempre stata la storia ma io voglio vedere se almeno qualcosa di diverso perché fino adesso io di nuovo in questo smash che stanno tirando fuori non vedo niente raga niente 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 c'è vedo il remake della Wii U mischiato col col 3DS perfetto come tutti questi giochi che stiamo giocando della Switch più o meno oh la gente non ci sente ciao Legends anche se non ci senti ti stanno dicendo che vuoi dire che non te lo compro no questo è il 3G che non ho capito no me lo comprerò sicuramente però ci saranno grossi problemi tipo in spagnolo sì adesso c'è un montone di problemi perché ora te voy a explicar comprare un juego dove tu tienes che tener la musica constante della Nintendo è jugar per borrare tutto lo directo che fa perché tutto lo directo sicuro tendrà un copyright entiende quindi jugar a un juego che tiene un copyright se io tengo un enemigo mi puoi cerrar il canale così ti dico di chiaro entiende per copyright strike che cosa sì quindi ti dico sì lo voy a comprar lo voy a jugar non se quando lo voy a comprar sicuro lo voy a jugar in singolo no veo lo che c'era in wii uo per lo tanto in realtà c'era 40 nivelli nuovi 49 49 sì credo sì e anche il personale c'è qualcuno nuovo ma l'altro va a fare l'amipo per tutti gli personaggi questo è gastare parte di tua empresa per che si 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 non avancen realmente recalco realmente in lo che è il juego anche dicono che c'è una parte che è la historia però questa non teniamo ben che sta in momento non sta in ospitiale no che sono patrocinatori sono patron del canale hanno donato 5 euro al mese e niente hanno il simbolo del patrocinatori del canale e in più adesso che faremo giocare con i patrocinatori giocheranno it's the patron sai che cos'è il patron no si look ciao sarebbe buon appetito buon appetito sarebbe anche noi oggi mangiamo presto ok ciao 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 gabri ferki dice a 10.000 gabri 10.000 gabri non le gusta vostra opinion o no gabri ah sì bingo io sto bene sto la mano di bene io sto fatal il mio messaggio è quando non puoi cercarlo una matata ragazzi quanto durò il stream di ayer che non mi intero quanto quanto durò il stream quando me fui doc ma la switch non è un remake in sé della wii e del wii u e del 3ds più o meno si sì oi però a parte di 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 mi parecia per una persona come come io che juega smash da Nintendo 64 ti dico mi parece bo che non ha una evoluzione ni nella wii u ni nella switch quindi uno dei delle me migliori per me è quello del 3ds o del ds per entendermi hello japanese friend hello 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 Guys, remember to smash the like button PLEASE Look, today you won't win, you can't believe it, in all direct, no one game Poor guy Torre, right? Yes, I thought you were a enemy And this one will also be perfect And this one will also be perfect So, what? So, what? Because, no, I can't believe it, in all direct Oh, Ratti, I swear to you, when I arrive in Italy I'll do a pack And I'll give you some games for the Game Boy I'll send you, without doubt Believe me That it will be one of the first things I will do when I arrive in Italy Alastino Ah, bravice Oh actually dude Oh Pokémon rosso Vince! Cosa ti ha regalato a te, Koji? Tu chiedi? Chiedi e ti sarà... Guarda, tu eri Nintendo 8-bit e Nintendo 16, mi pare, no? Credo che ancora una decina ne ho in casa, tranquillo Ancora una decina di Nintendo ne ho in casa, minimo per qualità E' tutto vuoto intorno E' tutto vuoto, povera James E' stato Franklin che mi ha mangiato Lost Silver, cazzo, si Wow, cari eh! Vabbè, non puoi usare le batterie E' impressionante molto cari Eh cari... Cari, mi ha ponato un montone Hola Adrian, benvenito hermano Hola Adri, che tal? Hola Lorenzo Hola Sara, Sandra Sara Vince, eh... Io ti mando, io ti mando un Nintendo 8-bit o un 16-bit e tu mi mando i caciocavalli Per me è uguale come scambio Facciamo uno scambio alla pari Sembra giusto Ah ma è tuo cugino! E' tuo cugino! E auguri con... con... Allora aspetta aspetta Allora, il Game Boy Advance e Pocket stai mischiando un po' di cose O il Pocket o l'Advance o il Micro Secondo me tu stai dicendo il Micro e stai mischiando tutto quello che puoi Fanta, con te ce l'ho eh! Game... Game... Game Boy Micro SP l'Advanced Micro Minchia, un chinetto di mozzarella Guarda, eh... QG Ti dico una cosa L'ultima volta che è venuto un mio amico a trovarmi qui dall'Italia che è venuto in aereo mi ha portato 80 euro di formaggi che ho mangiato minuziosamente con Jess in due giorni ok? Mozzarella di bufala eh... stracciatella burrata eh... provola mi cacerà di tutto abbiamo mangiato come le bestie eh... ratti quello ti do sicuro che sa perché sicuro che sia fuso qualcosa lo schermo allora guarda sei perso del... allora penso che sei rotto perché non si vede quasi eh... Sarebbe da vedere ma tanto sempre in quattro siamo però sì, rinvia sì? l'inizio, sì sì 56,98 56,98 56,98 56,98 non lo so per chi no e stai scritto che il meme che va a ganar eh... tambien oh ratti ma fai... fai il... il concorso dei meme di... di... di crazy justice creo che... puoi accedere anche ad un'altra piattaforma eh... creo tiboncino ciao bello vai Jaime entra chicos enter the room ah è vero ah è vero hai ragione l'amore capoeira l'amore capoeira scusate l'amore capoeira l'amore capoeira l'amore capoeira l'amore capoeira no? sto equivocando... Jaime ti unis a un te spero perciò mi serve qualcuno che me lo... traduca bene l'inglese ma io te lo posso correggere prima Ratti non c'è nessun problema in assoluto oppure ti fai dire oppure ti fai dire cosa vuol scrivere l'inglese infatti si 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 yeeey parto facciamo la mischia fai quello che vuoi si te ne vai look head guarda che più tardi facciamo un po' di fornite eh e sveglio oh è vergino igual bingu si vince un early access che puoi gentilmente regalare io? io? come ho montato adesso si vince un early access che puoi tranquillamente regalare a qualcuno della community a tuo piacimento lo dovremmo fare tutti tendremo che esserlo tutto lo meme dello igo di in crazy justice ah Fergie per il tuo spartecipato già? ciao Anto ma non ti avevo mai salutato Alessandri chi Anto? Adri un loro si chiama Coco ah c'è Buda no? ciao Buda io non li vedo su 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 arancione ah si Alessandri oh Vincenzo un abbraccio anche a te bello grazie per essere passato anche oggi ciao Vincenzo tu sai che se passi un saluto a me fa un favore così almeno vedo anche qualcuno della family vera la mi ha bisogno di riscrivere per favore Fantino con la schioccia la live gamer family si puoi o si aspetta si do fa scroll c'è ancora una domanda mi manca pokemon rosso fuoco boh guarda non mi ricordo se i pokemon li ho venduti tutti i giochi dei pokemon quando sono venuto in spagna o se ancora ne ho perché ne avevo veramente avevo tutti quelli del gameboy advanced del gameboy color del gameboy piccolo 8 bit mamma mia grazie grazie così almeno sembra una cazzata ma se io ti mando un messaggio di quelli e tu entri ok youtube vede che c'è gente che accetta la condivisione che io faccio perciò mi fa vedere un po' di più nella classifica tra virgolette di merda comunque Vincenzo un abbraccio grande grande saluto a tutti a mamma a ad angioletto che forse prima era passato anche perciò e alle vostre rispettive moghi che si chiamano giovanni e antonio le ragazze dei miei due cugini c'è una domanda di ehm di buda ma no dai che si chiama giovanni non dire cazzate che qua tutti abbiamo una ragazza che si chiama giovanni o antonio ahahah ma anche marianna dai dai fai il serio ahahah eh e Lincoln eh 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 è donna ma anche Giovanni è donna chiede a coglione chiede a Legend Antonio, hola hola, che tal? siamo un po' strani qua non ti preoccupare che tal Antonio, tutto bene? ho detto Antonio è comparsa Antonio me puoi unire, è chiaro che sì Antonio te puoi unire se eres nuovo della community, por favore, aggreganos nel canale, antes de todo se non eres nuovo ya sta, dame tu like dame tu like, dame tu like dame tu like please please no è fanta, è il caricatore per l'SP non so, non so se ne... cioè, devo arrivare in Italia ci metto ancora un po' ad arrivare in Italia io qui ho un Advanced per esempio SP e ce l'ho del caricatore rosso oi là tipo un... non lo so, non lo so perfetto Antonio allora non ti preoccupi un Edesi, sì, claro la contrasegna... ah, Luke Luke ah, è Luke la contrasegna è stato da arrivo la prima partita del 6-10 è a 5-6-9-8 ascolta Fanta prendila e gira quando lei è chiusa come Game Boy giralo ok e guarda il codice ASG che hai per favore perché ti chiamo Gabri, Gabri? non lo so, ma... ti chiamo Mariana con Lube e Ferky anche e Fanta perché le cambiate a la gente la contrasegna il nome? non lo so solo a Frank si le puoi cambiare il nome non lo so mi colore preferito Sandrina è il trasparente vale siamo già giusti vale arranco, eh non so perché antes come è che uno sale della sala 08005 è il mio cap no? eh? 08005 che è? il cap il codice postale giusto? sì sì? ah no, sì hola rockix ciao doc dice ciao Rocky te ne vai o sei appena arrivato? cioè sei tornato no Rati ecco ma adesso sto giocando no ma dopo certo che lo guardo e ti dico qualcosa ecco ecco sei uscito con Ale Alessandri belli i miei piemontesini ragazzi i miei giandugliottini lo sapete lo sapete che io sono di Torino raga Saretta ciao Sara no che hago io qui ti sei persa dei neuroni dei neuroni Sara e color favorito di Adrian è il roco il tuo iniziamo partita no si appena iniziato è appena iniziato già no eh te lo giuro no eh chiaro che si ma fai fai non dici no se ne è diminuto così dopo lo guardi no guarda tu per favore ma sono sicuro guarda per favore che sei sicuro che sei sicuro guarda guarda io mi ricordo di aver fatto una mischia brusca e nella nuova mappa è questa è bazzucato facciamo tre adesso ah si è vero è il giorno i miei colori favoriti sono todos ah si non ti decides si si lo sappiamo che era andato dall'oculista cercavo il mare calmo e ho trovato un tè soltanto per stasera un video a luna piena come sempre si vede che c'è franco un'ora non ho capito quello che ha derratti che è bambera jess parla a bambera che è bambera la bambera è come dire per parlare no per parlare no bambera non so oddio non mi ricordo se l'italiano una persona si è disconnessa brutalmente handicap match ma perché non funziona più il controller quando puoi farlo devi uscire no non funziona più il controller l'hai caricato questa notte volentica il segno di scarico addio addio adri addio adri e sandra un abbraccio a los dos y gracias por pasar Io ho già quasi fame, lo sai? Ma che metto il latte? Sì, perché non voglio fare una live lunga, lo sai? Io ne ho anche... beh, è già un buon evento. Sì, è per quello che ho iniziato prima. Quindi mangiamo, non ci viene il soldo. Sì. Sì, così, noi siamo già a comere... Sì, che... E poi siamo a fare una live di Fortnite... Mastardi... Oh, Gabriele, se ho luito... Ah sì? Sì. Allora, allora... Eh, credo che era il microfono opposto... Cerca della maglia, della t-shirt. Allora... 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 New Lobby! New Lobby! New Lobby! 2... 4... 6... 8... 2... 4... 6... 5... 2... 1... 2... 2... 2... 3... Gabri Gabri è veramente fastidiosissimo e poi mi rinvii dietro i 5 e poi mi rinvii dietro i 5 che ti ho messo sulla paypal ieri sera però non puoi mettere il testo qui perché no? posso perché non sono il proprietario cioè non farmi parlare male è che c'è scritto lì cosa? holder posso stare in su equipo? Antonio tengo que hacer una cosa entonces no puedo no puedo ahora jugar la prossima que es la ultima la jugamos Milo Milo smettila per favore Milo Milo niente eh si vede che non viene mai nei diretti si vede che non viene mai nei diretti perchè? questa? no il codice postale 6 6 si sicuro che sei si 5 ma quello che mi sembra strano è che c'è scritto United States c'è scritto? United States ma dove? lì? ah che lo posso cambiare 5 c'è ah ok 5 avete preso lo stesso team veramente? si è formato è uscito lo stesso team così così no? questo non devo cambiarlo eh si se puoi cambiarlo si non può cambiare questo ma può cambiarlo però vai ok bo ok oi che wow oi che os parece? tu stava pensando che perché non si può accettare a Jessy al final il dinero lo pierde no, bueno regalo un po' di dinero a Youtube però in parte sì no tenía tenía envidia del simbolito che tenía Frankie Ratti por ahí dico io también lo quiero però perché non ha fatto rumore dello sponsor haciendolo Pingu metiéndome en el simbolito que hay en el Youtube Gaming pues eso Lu porfa esta vez juega si no no podes jugar con nosotros porque no nos gustan las personas que se quedan quietas en la partida no T-Bon no assolutamente Bon magari fosse così si Pingu vogliamo semplicemente lei vuole semplicemente voleva semplicemente primo vedere come si fa perché nessuno le ho spiegato come si facesse e secondo vuole il simbolo e basta quindi ognuno è libero di fare cosa vuole vuole spendere 1,30 euro per avere il simbolo lo fa per essere patrocinato devi mettere il dono qui è il tuo patrocinato con una tarjeta di Google Play o di anni di 15 euro e può essere per 3 mesi io credo che puoi tanto usare tarjeta di credito che la maggiori di voi non lo hanno e poi la opzione che dice Gabriele, le tarjeta prepago secondo me ho capito perché, a ver hai visto il primo simbolo il primo simbolo parecì che fosse tarjeta di prepago ah, beh, sì la tarjeta di prepago la compro una dentro del post e il patrocinato è già però, dejamelo confirmare sì, però, Franca, sono dollari, eh perciò è un po' meno di euro, eh sono meno di euro sì, quasi uno meno beh, con prepago sarebbe perfetto con una cosa a dire a mio padre mi dà una tarjeta per una cosa lo sai e ora, se si, eso questi 10 non ho tenito molto internet però dopo lo miro perché è che ho mirato hace un montone è che quando vai a farlo ti dà i simboli della tarjeta vale? che pasa? che li ponen tan pequeños e non lo puoi ampliare che se non sai se non conoscesse il simbolito e poi sì non si riconosce di che si tratta oh, Fanta non hai capito se Jess mette si mette da patrocinatrice vale, del canale lei comunque recuperiamo i nostri i nostri tipo 3 dollari e 60 perciò Jess sta solo spendendo un dollaro e 30 per avere il simbolo sì esattamente e poi essendo una community mi sa che lo farò anch'io non mi interesso sì Lu e Rose Splatoon ma siamo vicino a cercare il stream ma però Cari al final viene tu padre al stream del luego o che? solo che di las 8 a 9 non va a essere seguro che va a essere un pochino ma sia a 9 che a 8 no Cari se tiene il codice cioè se tuo padre te lo deixa a cerco la carta lo fa con la carta diretta se no tiene non lo sai come funziona la carta è la targhetta la targhetta di prepago sì e poi tu le dà se lo chiede a tu il corrispondiente sì mi immagino sarà come comprar un juego di pagi in la e-shop o in o èso quindi non lo sai non lo sai non sta molto ben especificato però di vero che mi informo e a le persone che hanno interessato che ho conoscato ok grazie grazie mi piace grazie grazie lo spagnolo che dice luke che ne sa un problema a l'ora di jugar può essere che si si spaventa da come giocano ma non è in base nuovo dai luke luke tiene che ir al centro al centro questo ora non è spintare non è spintare che deve andare a dove c'è il coso di oro dove c'è il pezzo dorato che deve andare a la base opposta esatto no, Antonio, non deve che pinta Antonio, Antonio, deve andare a dove c'è il pezzo dorato non deve che pinta mi ricorda gli sei io dal primo giorno è vero, gli sei io il primi giorni e se, insomma, testo ma se poverino oi che nervura povera Frey non gli possiamo dire niente mi dispiace è che si stanno cercando di capire come si gioca che bello che bello hai bisogno di andare alla burbuja che c'è di color amarillo olè olè ha spratato il che sta parlando bravissimo bravissimo vale, 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 aiutalo, aiutalo grande, Antonio, aiutalo, aiutalo se non quanto non vediamo voglio provare che voglio provare in noi non so bisogna riprendere ma se lo so lo so Lui dipingeva tutto A chi ti ricorda Luke di Cerratti? A tutti quelli che hanno iniziato a giocare a Splatoon Sì, infatti E hanno iniziato a giocare la prima volta così Per fortuna Splatoon è un gioco e dopo un po' già capisci quando ti dice No, Luke, io no Oh Dio Quasi sei matato Ai, ma di grazia Che cosa è che hai visto? Mi ricorda le mie prime partite Splatoon Che quando hai impiazzato Oh mio Dio, che arma Frank, oh mio Dio Dispara, dispara la burbuca, la burbuca La burbuca, la burbuca Pop, muy bien Oh Dio, oh Dio Oh mio Dio Eso tienes que cargarlo A esta, a esta cosa Lo sta llevando él Sì Y ha llegado hasta el medio, no me lo creo Muy bien Muy bien Yo me acuerdo de la primera partida de Splatoon De Splatoon 1, no me acuerdo De Splatoon 1 Es que claro, se hai jugado Splatoon 1 Splatoon 2 te sale automático Por eso Pero de Splatoon 1 no me acuerdo De la prima partida De la prima partida de Splatoon 1 no me acuerdo Rocio, vamos a reiniciar la lobby en 1 match Y vamos a ser el ultima El ultima dos partito porque tenemos que comer a un Amarrati tu también así ¿Claro? ¿Claro? Sí? Sí, así era Estras... Estras... Buenino Ratti Io ho la inversa Fanta, era bravissima in Splatoon 1 e in Splatoon 2 mi trovo un po' più in difficoltà. No, in Splatoon 2 stiamo giocando con gente che è forte e non stiamo giocando in privato, in pubblica, perché in pubblica fai 15-16 kg ugualmente, perciò non troviamo scusa. Nella comunità c'è gente troppo forte per essere forte. Nessuno sarà mai forte in questa comunità, perché siamo tutti forti. Bene, si apprende, cerchino. Sì. Via Matakari, al finale. Un vero. Vale, nuova lobby. In inglese, in inglese, di stare preparati, così il Rose che deve giocare. Non do una masca tu. No? Non te lo switch. È vero? Ok. New lobby. Vabbè, andrati. Cioè, vai tra. Io vado tra. Vai tu tra. Tu vai tra. Mi sa che ho sbagliato. No, io. Vabbè, non metto per cambiarlo già. Alla fine, non ti ricordo. è un ragazzo nuovo, Franca. 46, 28. Già. 46, 28. . Che bello quel simbolo. Ha 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 ha. Un bel bello. È un bel bello. Sì. 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 Che bello quel simbolo. E guarda che c'è, non te lo toglie subito i soldi eh? Ah no? Mi sarei tenuto nel primo mese Si ma Franca, più pazienza, anche tu eri in hub una volta Ovviamente decidiamo di allenarsi un po' prima di unirsi ma... Cioè sarebbe, con altre persone che adesso giocano bene, sarebbero stati cattivi a dirli a Stormi No, frattami di qua che non sai giocare Cioè mi sembra un po'... Adios Antonio Antonio, grande eh, bien hecho Adios Tu continua, si? Continua ad entrenarte, si, si Pratica, 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 in brano Perché Splatoon è un gioco dove in partita pubblica è molto facile giocare Però qui che siamo una comunità abbastanza pro Sale molto difficile giocare Quindi non devi pensare come giocare con noi Tu devi giocare e niente più Ma giocare sempre... com'è il livello 22 già? Ma no, sicuramente avrà giocato altre persone in quel gioco No, può essere che ha giocato solo in pubblica, ti sto dicendo Ah, dici che mai ha fatto ranked, chiaro, non sa manco che è un... può essere... Non è ancora arrivato al 22, puoi fare... Sì Ma che libero pensare a fare? Il 10 Boh, se non pronto non ti metto a giocare a quello No, non credo, perché se avete spasso Che non avete un mensaje No, mi è passato a rinconcare con... Io non avevo a capire il chat Luca Sì, io a Carmen non ho provo che ho un po' non so cosa Sì, ma è un'idea Ma è una buona idea, abbiamo fatto questa proposta molte volte Ma è un'evento molto complicate di organizzare Si può portare molto problemi a un canale Se non è ben organizzato Ma è un'idea Ma è un'idea E' una cosa complicate di organizzare E' un'idea Ma è un'idea E' un'idea E' un'idea E' un'idea E' un'idea Quindi aspetta E' un'idea E' un'idea E' un'idea E' un'idea Ma è un'idea E' un'idea ah Fanta minchia però Fanta sta fermo dai perchè stai scrivendo un chat? non lo so, ho visto no c'è del microfono tengo una idea che ha preparato il microfono si tienes una especie de pinza pequeña o que sea una pinza de la ropa o algo así o una goma de... o algo átratela un poco más hacia arriba al micrófono para que no te roce la ropa quizá o algo así si se puede, intenta ser creativo si, si, claro va, pues el próximo directo ya si, 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 no te preocupes el próximo directo cuando me toque estaré un poco vale, vale ah, le he muerto el Joy con la Fanta Jessica, con el Early Access puedo jugar con Dove? Early Access te queda de Crazy Justice de Crazy Justice dal... en el PC dal PC, eh? si, Fergie si si, me falta, non si te descaricato el Joy con el Joy con lo te he muerto porque, Pingu? porque te ha matado con bombas buen apetito, Tibón buen apetito, bello pues entonces no, Fergino pero me parece que han escrito que se puede ganar una copia también del juego eh, no lo sé Marco! Marco! ah, Ratti se ha messo Iguodi bello cosa? Ratti se ha messo Iguodi la divisa Iguodi già ah, cos'è? nel gioco ah ah, la divisa ragazzi hanno messo Negan di Walking Dead in Tekken 7, raga bravigotin che tal? 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 no, ma ho dovuto guardare bene perché credo che ho leo o per gli altri altri o per la plataforma che ha quindi non lo so che dovete guardare un secondo che tal? 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 poca più? poca tanto? vero? no! i hai e te pali sono sceramente ci seguiamo? 20... ciao Mako! ciao Makino! ciao! un abbraccio li metto, eh? ok oh mio dio oh bravissimo ora Vittorini non ti aveva visto Vittorini non ti hai visto io ne salutavo non ti mette caso oi Vittorini però ti hai che jugar in Fortnite per Switch per favore non dal ordinador perché abbiamo demasiado desvantaggi si, nel ordinador è più pro e il Switch non riempie abbiamo molti desvantaggi molti anche a ver perché perché se tu vuoi giocare da Switch con uno del PC ti puoi toccare servizio del Switch o servizio del PC esatto è un dico per questo per questo è meglio non riempire grande no dobbiamo mangiare no dobbiamo mangiare noi ciccio ciccio gamer no dobbiamo andare a mangiare se no poi stasera non facciamo un'altra live mille cazzate minchia per una volta che facciamo il gioco che ti piace e vabbè ma minchia ma stiamo giocando da due ore due ore sì ma prima hai giocato no eh lo so però ieri sera non l'abbiamo mangiato e a pranzo io ho mangiato un panino tu non so cosa hai mangiato quindi dobbiamo mangiare sennò poi non mangiavano anche stasera zio veramente se fosse se fosse per 60 euro al giorno non mangerei ma ricordatevi raga che il patron che c'è stato oggi l'abbiamo pagato noi oh che tristezza questo termine non ho live sì Fanta questa è la comunicazione ancora si deve capire qua è vero sai io sono fuori di questo sì allora la ronda dei saluti bene ragazzi la ronda dei saluti chicos ora vamos a cerrar este stream di quasi due ore e vamos a cenare e poi ci vediamo qui ancora per un po' di fortnite un po' di headshots venga vamos a vero oh Frankie Bon questa è Sara la riconosco Saretta guarda mi metto così davanti così sembra molto più grande sì Victorin è in serio grazie è un po' di due ore in Splatoon noi due però non ti preoccupi che potrebbe essere che mangiare il doc avrà un altro diretto in questa ora quindi non è solo noi ma potrebbe essere anche mangiare ragazzi può essere che domani se tutto va bene faccio un diretto di Splatoon in queste dalle 5 e mezza più o meno in poi perciò se volete giocare sapete che ci siamo che carini tutti quindi ragazzi io inizio con la ronda dei saluti scrivete 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 chicos e scrivete per favore se vi voglio salutare nel diretto ragazzi ricordate di scrivere tutto o qualcosa e saluto in la ronda ora e torneremo in un momento con un po' di fortnite ragazzi so i miei saluti più veri vanno per Marco Machino Fantafantino Degaduca Igo di Ciccio Gamer Gabri Corazonsito Cari Milo Saretta Lue Rose Victorin per i miei tre patrocinatori Ratti Frank Jess Doc Doc Cocchino ragazzi come si dice in questo caso Pappo 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 Bella un abbraccio Pappo grazie per essere stato qui con noi al posto di stare nel tuo stormo Saluta Jess R Chicos Che va Nos vemos luego Y muchas gracias Saluta Gabri Bye Chicos R Ragazzi La Livestream Finisce qui Andate in R E Difondete Il Verbo Del Bye Bye R R R R R